Terzo appuntamento con Dove io e te siamo noi, viaggi nei luoghi della relazione. In questa terza occasione ci sarà Giuliano Calza, che è un imprenditore ed è anche il presidente della IDP, Associazione Italiana Direzione del Personale. Giuliano parlerà di lavoro in modo particolare, lo farà con un convegno a cui seguirà un film. Il film scelto da Giuliano sarà Gli ultimi saranno ultimi, un film di Massimiliano Bruno con una bravissima Paola Cortellesi e è un film dove appunto il tema del lavoro, il tema della fuoriuscita del lavoro diventa centrale, con grande forza e con grande intensità. Vi aspettiamo domenica 10 giugno a partire dalle ore 17, l'appuntamento è al Cinema Masetti di Fano, ingresso gratuito, offerta. Con questo terzo appuntamento si chiude il primo ciclo di Dove io e te siamo noi, viaggi nei luoghi della relazione. Il prossimo appuntamento sarà a settembre fino a dicembre con altri relatori e altri film. Il prossimo appuntamento sarà a settembre con altri film. Grazie. Grazie. Grazie.